Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, il vicepresidente Roberto Placido e il consigliere segretario Gianfranco Novero hanno ricevuto il 20 dicembre una delegazione delle comunità montane. Nell'incontro è intervenuto anche Lido Riba, presidente dell'UNCEM, che ha ricordato, tra l'altro, la necessità del saldo dei finanziamenti regionali per il 2011. Il presidente Cattaneo ha riferito di voler portare le istanze delle comunità all'assessore all'ambiente e all'economia montana Roberto Ravello e al Consiglio regionale.